We Carrot vi porta alla scoperta di affidabilità e tecnologie, la fiera internazionale dedicata all'innovazione in ottica industria 4.0, dove vengono presentate tecnologie, soluzioni e casi applicativi per le aziende manifatturiere. Con 330 espositori, 6 convegni, 15 seminari, 11 sessioni specialistiche, AET testimonia che le aziende italiane stanno sempre più puntando sull'innovazione come arma per competere ed affrontare le sfide del mercato in ottica 4.0. All'Unmotion è una realtà italiana relativamente giovane, che è distributore sul territorio nazionale di alcuni marchi leader nella nuova robotica, quello che chiamiamo robotica di nuova generazione. In particolare in questa fiera presentiamo quello che è Universal Robot, che ad oggi è leader mondiale nella produzione, distribuzione e installazione di robot collaborativi sul mercato. Poiché il concetto di collaborativo, essendo Universal Robot è un'azienda che è nata nel 2005 e ha prodotto il primo robot collaborativo nel 2008, per noi ad oggi che è il 2016 è già qualcosa di consolidato. Si sta parlando di qualcosa in più che va un passo oltre la collaboratività. In particolare quel concetto di smart accennato durante la presentazione si riferisce al parallelismo tra quello che è lo smartphone, cioè il telefono pieno di applicazioni dedicate ad alcune funzioni della vita quotidiana, a quello che diventerà poi lo smart robot. Poiché l'e-robot si prevede che nelle piccole e medie industrie avranno grandissima diffusione, è chiaro che il concetto di avere un robot friendly, facile da implementare, facile da installare, facile da programmare, si sposa bene con quello che è l'utilizzo di app che saranno da installare sui robot. In particolare col parallelismo con i telefonini, quindi avremo delle app possibilmente da installare sui nostri robot e che andranno a sviluppare funzioni dedicate già funzionanti e testate che quindi non saranno di sviluppo dell'utente finale o dell'integratore. Grazie per la visione!